50 anni di sviluppo Umbria, l'agenzia in house della Regione Umbria finalizzata ad accompagnare con progetti mirati lo sviluppo economico. Lo speciale compleanno è stato festeggiato a Palazzo Donini con un incontro aperto dai saluti della Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria Marco Squarta e del Prefetto di Perugia Armando Gradone. Tra gli intervenuti Giuseppe Derita, Presidente del Censis, Gianfranco Cavazzoni, già professore ordinario di Economia Aziendale della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Perugia e Michela Sciurpa, amministratore unico di sviluppo Umbria S.P.A. che ha ricordato la mission dell'agenzia a supporto delle imprese. L'Umbria ha sicuramente bisogno di innovazione, di internazionalizzazione, di dialogo interregionale, di aprirsi a nuove sfide, a nuove frontiere. Sviluppo Umbria come società in house, quindi strumento, ente strumentale a disposizione della Regione Umbria e dei soci pubblici, è certamente quell'elemento di cerniera, quel facilitatore del dialogo quotidiano fra imprese e amministrazione che favorisce le condizioni perché si sviluppi l'economia, si sviluppi anche la promozione del turismo. La Presidente Tesei ha ricordato l'accelerazione che l'agenzia ha avuto negli ultimi tre anni grazie ad una razionalizzazione che ha contenuto i costi, consentendo di chiudere due bilanci con un utile. I lavori sono proseguiti con un lavoro dedicato a passato, presente e futuro di sviluppo Umbria S.P.A., moderato da Giovanni Parapini, direttore della sede regionale RAI per l'Umbria e un secondo dedicato alle testimonianze dei rappresentanti del tessuto produttivo raccolte da Giacomo Marinelli Andreoli, direttore responsabile Umbria TV con Confindustria Federalberghi, CNA con Fimi e Confapi.